Buongiorno ragazzi, buon lunedì, oggi andremo al cenote Zalcilha, andiamo! Siamo arrivati a Tulum con solo 50 pesos, cosa classica van, adesso ne prenderemo un'altra in direzione Cobà ma ci fermeremo al cenote Zalcilha, andiamo! Con questa van ragazzi andremo al cenote Zalcilha, costa solo 25 pesos Roby Elena Vamos! Siamo arrivati al cenote Zalcilha, entriamo! Il costo d'entrata è di 200 pesos, circa 8 euro, perché il locale come me è 100 pesos, circa 3,50 euro Qua ragazzi si possono prendere il giubato di saldo dita, il cialeto E invece qui c'è la tirolesa con solo 10 peso, circa 40 centesimi, ci si può lanciare direttamente nel cenote As希, adesso mi metto qua, sei pronti? Ciao! Adesso mi lancerò con la tirolesa lì Adesso che giro è io Grazie a tutti Ciao ragazzi alla prossima Ragazzi spero vi sia piaciuto il video Ci vediamo al prossimo Ciao ciao